Il secondo vincitore che però non è presente in sala, Benedetta Sarrica con la poesia poi del cammino, quindi la leggerà Anna. L'essenza del poeta accorta il volo radente nelle sue più tipiche espressioni, lo stupore di fronte alle cose che accadono, l'interazione con la natura, la capacità e il tormento di poter essere il nulla e tutto, di essere un universo che basta a se stesso e che ha bisogno tuttavia di essere nel mondo, versi lievi per esprimere i profondi trovamenti dell'anima. La poesia è intitolata Poeta in cammino. Ti vedo poeta quando sorpreso esplori le tue pareti di spiga, sorridi all'ape che ti cerca e le gocce li accendono i tuoi petani. Ti sento quando cerchi il silenzio nell'aria che sfiora le tue aree. Riconosco la tua fragile forza vivente nell'universo che sei. Nulla e tutto a tua scelta. Grazie. 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 Grazie.